È giusto tramandare anche queste cose ed è giusto che siano i giovani a farlo. Questo è, come si dice, un ancora a mare, cioè un grannellino nel mare. Chissà quante tonnellate di... ce ne sono ancora. I ragazzi dell'area penale di Napoli si immergono nelle acque del golfo nel giorno dedicato agli oceani per un'attività di pulizia dei fondali nella zona del borgo dei marinari. Sono in circa 20 ad aver conseguito il brevetto di sub per poi diventare operatori tecnico subacqui. Ci arrivano dopo un impegno sociale costante, il tutto è reso possibile grazie al progetto Bust Busters che vede insieme a Mare Nostrum il Dipartimento Marino di Archeoclub d'Italia, la Marina Militare e il Centro di Giustizia Minorile della Campania. Le parole di Rosario Sant'Anastasio, Presidente Nazionale Archeoclub d'Italia e di Agnello Cuciniello, Capitano di Vascello della Marina Militare. Il tema della mare è un tema molto vasto che ha tanti benefici, però deve essere ben valorizzato e soprattutto deve essere curato, cosa che oggi non viene fatto da molti natanti. Il progetto prevede che questi ragazzi conseguano dei brevetti di livello successivo fino ad arrivare ad operatore tecnico subacqueo. Nello specchio del Borgo dei Marinari è arrivata anche la Mare Nostrum Dijk, un tempo imbarcazione con la quale gli scafisti trafficavano persone, bambini, anziani, donne sulla tratta dalla Turchia. Intercettata e sequestrata dalla Guardia di Finanza, il bene è stato affidato in custodia ad Archeoclub d'Italia, dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Oggi al suo interno è possibile leggere in originale un pizzino scritto dagli scafisti, ma anche vedere la tavola dei venti con ben quattro imbarcazioni che raccontano quattro epoche storiche diverse.